Cari amici teletentatori, benvenuti a questo nuovo live del 25 di settembre. Siamo rigorosamente in diretta per gli amici che ci seguono ora su YouTube, ma poi lo saremo anche su Instagram se ce lo permetterò di pubblicare questa nostra diretta. Ciao, vogliamo salutare tutti coloro che compiono gli anni, in particolare quest'oggi su Zorne Gheghelle, ma anche la grandissima Loretta Goggi che ne compie 83. Grandissima su Brett, dagli anni 60 ad oggi, tantissimi programmi da Viettola del 66, ad Ello Goggi e all'ultima su Avventura Televisiva con Benedetta Primavera. Secondo noi è una delle più grandi di tutta la televisione italiana, imitatrice e quindi insomma la celebriamo quest'oggi. Fra l'altro canteremo qualche sua canzone per omaggiarla, così come dobbiamo omaggiare assolutamente uno dei più grandi artisti che è zucchero. Per carità avrà anche un caratterino mica tanto facile, però è sempre un grande artista ed è giusto omaggiarlo. ed ora passiamo alla musica, naturalmente mettiamo qualche brano di Loretta Goggi e quindi amici ci salutiamo per qualche secondo e poi ritorneremo quando avremo finito di cantare insieme e quindi ci risentiamo poi. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Chi del Paradiso, a colazione, un capolavoro di freschezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altro brano di Loretta. Grazie a tutti. 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 Ed ora parliamo di altri argomenti. Dopo ritorneremo con i grandi successi di Loretta e ricomincieremo da un grandissimo suo cavallo di battaglia che non vi dico neanche il titolo perché lo scoprirete da soli. Ed ora parliamo di tante altre cose, vogliamo parlare di un argomento abbastanza serio sul quale vorrei far riflettere le persone, cioè i vari progetti che vengono fatti magari per chi come me vuole condurre, ma poi per un verso o per l'altro non veniamo mai considerati in televisione, soprattutto tutti coloro che sono affetti purtroppo da fitra pareti spastica. E questo è un problema perché dobbiamo pensare che ci sono tanti altri conduttori come il sottoscritto che hanno il medesimo problema e non vengono considerati. Volevo sapere un attimo da voi cosa ne pensate e poi mi direte nei vari commenti che farete qual è la vostra visione delle cose. Ed ora ritorniamo ai successi di Loretta, quindi ci troviamo tra un po' e quindi poi chiuderemo la nostra rivetta come sempre. Grazie. 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 Questo è dal prossimo amore, 1982. Na une acqua che be volsè a vol Buglia Mehr зр citizens Mr husband Mad Guade no 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti